Mi chiamo Caterina Totaro, ho 34 anni e sono la ballerina dei Terrarossi. Ciao, sono Ornella, ho 29 anni, sono una biologa nella vita, ma sono orgogliosa anche di essere una delle ballerine dei Terrarossi. Mi chiamo Miriana Gentile, ho 26 anni, di giorno sono un intermedio rassicurativo, mentre di notte sono una delle ballerine Terrarossi. Allora, il nostro concerto lo definirei in due modi, emozionale e coinvolgente. Emozionale perché riusciamo a trasmettere qualsiasi tipo di emozione e sensazione che noi stessi proviamo, sia quando siamo sul palco a ballare che quando siamo giù tra la gente. E' coinvolgente perché non c'è una sola persona che riesce a star ferma durante il concerto. La gente viene, ascolta il popolare, però alla fine si diverte. E' una vera e propria festa all'interno della quale il pubblico dimentica i problemi della quotidianità ed entra a far parte del nostro spettacolo che è una festa.